Fa freddo, tira vento e piove addirotto, fuori e dentro la serenità nel meteo non è certo migliore di quello che ci stanno regalando questi primi giorni della settimana che porterà al derby. Curva sud esaurita, nonostante l'incremento dei prezzi, il resto verrà da sé. Non è ancora arrivata la fumata bianca per il nuovo allenatore, ma una cosa è certa. Fazio, autore di due falli da rigore piuttosto palesi quanto ingenui contro l'Atalanta, marcherà visita per almeno un mese. Lesione al polpaccio, da rivederci a tempi migliori. La stagione del difensore argentino fa registrare l'ennesima sosta ai box. Un'altra tegola si abbatte su una retroguardia uscita a Brandelli dalla sferta di Bergamo e messa a ferro e fuoco anche dal Torino. Il dato che dovrà far riflettere il successore di Nicola è l'assoluta inadeguatezza dei singoli a vincere i duelli individuali, la mancanza di filtro della mediana e l'assenza di collaborazioni in campo. Nicola aveva perso il filo del discorso, ma certi atteggiamenti in campo sono propri del bagaglio del singolo. Ghiomber, per esempio, non ha dimenticato come si difende sull'uomo. Se gli altri non hanno la stessa incisità, qualche domanda bisognerà pur farsela. Fazio è stato protagonista in negativo a Bergamo, non da meno Lovato e Pirola, che hanno militanza nelle giovanili azzurri e hanno accumulato già una certa esperienza. Eppure domenica sera a Bergamo sono apparsi letteralmente smarriti. Sabato sarà disponibile Danilio, mentre va valutato Bron e ci sarà Ghiomber. Potrebbero essere loro i titolari nel derby col Napoli, come nell'ottobre del 2021 potrebbe toccare a Stefano Colantura andare in panchina. La proprietà lo ha allertato, l'ex trainer dell'Atalanta si tiene pronto. Potrebbe affiancarlo Ribery o Luca Fusco, tecnico della primavera. Un interim potrebbe essere prospettiva alquanto realistica, visto che la società ha avviato un vero e proprio casting per la panchina che ha interessato anche Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo è stato sondato e il presidente Rebolino pare disposto ad attendere le sue votazioni circa il progetto che gli è stato prospettato per poi eventualmente andare su altri obiettivi. Iachini e D'Aversa sono stati interpellati ieri, mentre stamattina ci sarebbe stato un nuovo contatto con Leonardo Semplici, nome fortissimo già nell'intervallo della gara di Bergamo. L'ipotesi di Francesco non scalda mentre è stato interpellato l'ex Lazio Pekovic vicino alla panchina della Nazionale della Polonia. Per ora Colantuno poi si vedrà, in questo momento è ovviamente congelato il mercato, inutile trattare i calciatori senza avere il gradimento del tecnico e senza sapere chi sarà e quale modulo vorrebbe adottare. L'esonero di Nicola, seppur nell'area da mesi, appare sempre più un provvedimento preso distinto, visto che non c'era un'alternativa pronta. Con quel primo tempo da horror a Bergamo si sono sgretolati alibi, certezze, tentativi infiniti di mediazione. Il banco è saltato nella maniera più eclatante possibile, anche quella più dolorosa e mortificante per la tifoseria, a cui ancora nessuno ha pensato di chiedere scusa.